buonasera amici oggi siamo matti per la traina al calamaro e ovviamente non potevamo che chiamare il nostro grande amico michele prezioso responsabile a z ma soprattutto uno dei più bravi pescatori traina al calamaro noi sfruttiamo sempre michele perché michele è super gentile e soprattutto quando poi viene in sardegna altrimenti lo meniamo buonasera 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 e allora stasera siamo tutti matti per la traina al calamaro e quindi da matti per la pesca non c'era posto migliore per poter esternarvi tutte voglio dire le cosine che si possono fare per quanto riguarda la traina al calamaro diciamo che negli ultimi vent'anni si è tanto evoluta e quindi stasera analizzeremo diversi terminali e poi più avanti quando capiterà voglio dire quindi tra un mese non di più faremo un altro filmato per farvi vedere la modifica famosa del dell'artificiale per i calamari perfetto allora oggi facciamo un video vero non ci interessa marche poi ovviamente qualche marca la diremo però ci interessa da te sapere come si fanno i travi per la pesca al calamaro ma non travi qualunque vogliamo i tuoi travi quelli tra scuola napoletana perché in tutta italia si fa questa pesca però c'è da dire che nella vostra zona avete una marcia in più perché la fate da una vita perché perché è questo quindi noi vogliamo sapere da te i tuoi veri travi perché di travi x ne abbiamo visto milioni e non ci interessano e poi noi di matti per la pesca andremo a provare a cagliari nei prossimi giorni se i tuoi finali magici funzionano anche in sardegna perché fatti da te usati da te è troppo facile quindi useremo i tuoi segreti per provare noi a pescare qualcosa che non siamo grandi pescatori di di train al calamaro ma guarda io ti dico la cosa che mi ha convinto sempre di più per quanto riguarda la train al calamaro e le varie voglio dire sai varianti lunghezze velocità colori tutte queste cose qua mi fanno rendere conto che vengo in sardegna e li prendo vado al giglio e li prendo vado in sicilia e li prendo e non vario quello che faccio a napoli quindi voglio dire bene o male lo standard è quello poi diametro più sottile diametro più quelle sono cose che lasciamo fare voglio dire a quelli un po sai andati perché c'è il tipo fissato che pesca il calamaro col 20 ma posso capirlo a aging ma trainando a due nodi due nodi e quattro e hai la fortuna di incorciare un calamaro serio perché di questi periodi è facile prendere un calamaro noi chiamiamo tubi da un chilo un chilo e mezzo e sai non è facile col 20 tipo ti può lasciare lì tic non trovi neanche più l'artificiale quindi queste cosine quale lasciamo i malati della bolognese come siamo stati noi in passato io oggi onestamente per quanto riguarda i diametri la cosa più importante che posso dire è che la treccia che mettiamo nel mulinello deve essere una treccia qualitativamente perfetta un otto capi non bisogna mai superare anche se si pesca col mezzo chilo un 14 16 massimo massimo come diametro ci conviene pescare col multicolor perché ci aiuta tantissimo quel fatto dei 10 metri tu quando vai a terra ti ricordi i colori che sono usciti bene o male sai già dove fermarti prima di andare a terra quello che bisogna fare voglio dire attenzione è quello la treccia che è la cosa più importante e il floor carbon deve essere di qualità girelline tutte queste cose qua sono semplici sono diciamo che bene o male la minuteria se non la si prende di proprio di diciamo di marca proprio basic ormai è quasi tutto allo stesso livello quindi dire una girella anziché che un'altra mi sembra inutile perché le girelle sono tutte quante sullo stesso standard a meno che poi non si vuole entrare proprio sai nel particolare no ma io devo avere quella lì però alla fine l'importante per questa pesca sono le velocità conoscere bene conoscere bene batimetrica e morfologia del fondale perché i calamari di sera arrivano sotto costa ma amano i canaloni di sabbia amano la poseidonia amano le scadute voglio dire fatte di macciotto quindi però bisogna sapere che mangianza troviamo sul posto quello è importantissimo perché a seconda della mangianza troviamo sul posto come per il tataki andremo ad abbinare i colori dei nostri artificiali nel 90 per cento dei casi onestamente penso che i colori naturali sono sempre quelli che rendono di più e poi ce n'è uno che come intraina così a tataki così voglio dire intraina per gli artificiali a spigoli a quant'altro c'è l'eterno voglio dire testa rossa che di qualunque marca di qualunque cosa funziona comunque specie nelle serate voglio dire senza luna senza luna ok stiamo andando un po un po avanti allora riprendiamo un attimino eh con un senso logico allora innanzitutto abbiamo già capito che in tutta italia i calamari capiscono il napoletano questo l'abbiamo capiscono sì capiscono ok allora iniziamo eh per far capire bene i nostri amici preferiamo parlare preferisci parlare di eh traina eh di eh di urna o passiamo già a quella notturna possiamo parlare di ambe due perché voglio dire ambe due vanno bene sia di giorno che di notte non è voglio cambia l'artificiale e cambiano dei delle lunghezze voglio dire però per il resto è e allora iniziamo a mettere la slide del eh del giorno del giorno la diurna i nostri amici possono capire esattamente quello che noi andiamo a dire perché noi queste cose mali le conosciamo però chi deve imparare ha bisogno di eh certo ecco qua eccola qua sì la tua allora come ti come come si vede lì trave di urno la traina diurna è fatta voglio dire di solito molto profonda quindi parliamo dai venticinque trenta fino ad arrivare a cinquanta sessanta metri quindi dove si va a tatacchi praticamente esatto esatto da dove si comincia da voi si comincia a venticinque trenta pure ad andare a tatacchi e anche lì voglio dire se c'è Poseidonia ci sono le zone adatte perché li trovi calamari in mangianza sicuramente pescando con una lenza del genere puoi divertirti di più e il diametro del trave parlo di un cinquanta perché se deve mantenere un mezzo chilo e va a cinquanta sessanta metri non deve fare troppo molla perché se no il calamaro non lo prendi il trave è costituito da una lenza madre del diametro del cinquanta ogni due metri uno snodo fatto con le perline quattro fori quindi possono essere le stonfo possono essere quelle barilotto quello che ci piace quello mettiamo l'importante è che siano quattro quattro fori ogni bracciolo ha una lunghezza diversa il primo sarà a cinquanta centimetri dal piombo quindi partendo da sotto vedi cinquanta centimetri abbiamo il primo attacco che deve essere lungo due metri e mezzo e siccome parliamo di pescare anche a cinquanta e sessanta come vedi non sono non vado molto per il sottile 33 o 0 40 quindi da un 33 a un 40 a seconda della grandezza dei calamari e di quello che troviamo michele i braccioli sono in fluorocarbon sì braccioli in fluorocarbon sì due metri e mezzo 0 33 0 40 ok il trave deve essere in fluorocarbon o può essere anche in nylon allora ti dico la verità io lo faccio in fluorine non lo faccio in fluorocarbon però lo faccio comunque in fluorine perché c'è c'è è meno è meno molliccio voglio dire quindi non fa proprio da molla ok mi tiene me lo tiene me lo tiene per bene me lo tiene per bene e è normale voglio dire che questo trave dello 0 50 che finisce qui dopo i tre i tre snodi lo andiamo a collegare in bobbina con il 14 o con il 16 del multifibre sempre otto capi è multicolor perfetto quindi lì ci andiamo a fare voglio dire il nodo si può fare un cococo chi fa voglio dire altri nodi non lo so io lo faccio facendo così fg mi è sfuggito quanto quanto deve essere lungo questo terminale in in fluorine o in nylon deve essere 10 metri 10 metri perfetto 10 metri di 0 50 su quei 10 metri di 0 50 partendo dal piombo che sta alla fine 40 centimetri 50 centimetri il primo snodo di due metri e mezzo 200 250 centimetri un altro snodo e mettiamo un altro bracciolo da 150 centimetri quindi da un metro e mezzo due due metri più sopra un altro bracciolo 50 centimetri quindi i braccioli sono sempre più piccoli man mano che valgono vanno in alto esatto che salgono sopra esatto esatto poi dobbiamo calcolare questa è un'altra cosa importante che la girella e il moschettone siano di qualità perché a volte cosa succede che non si rompe per esempio l'anellino o la girellina che sta davanti al pesciolino ma se abbiamo una girella di qualità che non va bene si può aprire molto spesso capita che se arrocchi voglio dire o in poseidonia o una rete voglio dire abbandonata se tu ce l'hai diciamo una girella e un moschettone come si deve riesci a far aprire la spugnetta cioè questa qui si apre vedi guarda se la guardate in in questo modo vi rendete conto che c'è qualche anellino che è più aperto perché quello è andato a finire in qualche rete quando l'ho forzata poi si è aperta e l'ho rimessa a posto con le mani però devi avere una girella di qualità se no si aprono quelle girelline da poco diciamo di poca qualità non vanno bene quindi lì non le esiniamo perché poi deve mantenere l'artificiale dietro che il costo si aggira voglio dire dai 12 13 fino ai 20 euro dipende dall'artificiale che mettiamo ok una cosa che ho notato michele sopra c'è scritto sotto travi diurno le esche io vedo che metti sia gamberoni da eggi sia opai ma anche artificiali ok ma anche un artificiale da da traina classico si può mettere sì 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 puoi mettere anche quello però consiglio questo modello voglio dire come ce l'hai tu con quel tipo di paletta perché ricordatevi sempre che nella traina vanno accoppiate le palette ecco come quello che c'è tu che alla fine voglio dire è la stessa figura la stessa paletta che ho io vedi perché questa paletta qui riesce a camminare anche a regime più basso di solito un artificiale in traina si porta dai due e mezzo tre e mezzo quattro per la traina veloce per quanto riguarda la spigola quando si parla di calamari si parte dall'1 e 4 1 e 6 1 e 8 quindi la paletta ha la sua importanza ci sono degli artificiali che per esempio trainati trainati voglio dire lenti al di sotto del 2 e mezzo il rapala non funziona perché si mette dritto dietro l'artificiale dietro voglio dire il piombo e non fa quel movimento quei guizzi che di solito voglio dire fanno gli artificiali questo qua invece come quello che hai tu in mano quello che cos'è un savage gear un savage gear adesso lo mettiamo a paragone ho preso un rapala adesso apposta per far vedere ai nostri amici aspetta la diversità la diversità della paletta la paletta la paletta del rapala è molto più pronunciata quindi se lo porti a meno di 2 3 2 4 non cammina proprio resta dritto come una bacchettina come se fosse un pensi cammina rigido esatto se invece lo porti a 2 e mezzo 2 6 2 7 vedrai che fa quello quello scodinzolio che poi tanto piace anche al calamaro non so se ci avete mai non so se a voi è mai capitato a me a train a volte capita quando tu fai una curva anche se la fai leggera per rientrare nel punto dove hai preso il calamaro anche perché ricordiamoci che il calamaro se mangia in un senso di corrente non mangia nell'altro quindi devi rifare il giro a 180 gradi ritornare sul punto e risalire nello stesso punto se no non lo prendi un'altra volta è difficile che mangia in un senso e nell'altro mangia sempre in un solo senso tutta la sera quindi questo è un segreto importante cioè questo è una cosa da non sottovalutare perché ti ottimizza il tempo perché tu capisci che mangia in quel lato è inutile che tu train nel lato opposto puoi anche girare e andare velocemente tornare a fare quel passaggio lì esatto esattamente ecco perché c'è questa le di notte è più difficile perché devi fare il giro del mondo e ritornare nello stesso punto quindi è importante prendere riferimenti a terra so che tutti usate il gps so che tutti hanno la linea di prua e quindi sanno dove ritornare la traccia tutto ma avere il segnale a terra secondo me quando si ferra è la cosa più importante perché tu non hai bisogno di riguardare lo strumento ma ci vai diretto e ti rimetti su quel punto luce su quel pezzo di montagna su quella casa su quell'albero è molto più semplice più veloce è molto più veloce oggi però oggi però con tutta la tecnologia che c'è ormai quel tipo di sì quel tipo di conoscenza è più da da vecchio lupo di mare oggi tutti i giovani ormai queste cose le hanno perse ma nettano che è una meraviglia voglio dire io io sono un po' ideotecnologico voglio dire e quindi mi rifaccio ancora a quelle cose lì che mi funzionano ancora funzionano a distanza di 40 anni funzionano sempre non ho dovuto fare aggiornamenti da quel punto di vista comunque dicevamo la differenza un'altra differenza che tu vedi nelle esche taglia eggi quindi questa qui parliamo del 3 del 2 e mezzo e del 3 e mezzo che è ancora più grande che cosa succede succede che quando facciamo questo lavoro qua 0,8 un nodo questi artificiali che servono per nascono per l'edging hanno una deriva sotto e non è quella la misura del piume cioè non è che quello pesa due grammi e mezzo tre grammi no ogni artificiale del genere va dai 18 ai 28 grammi la bavetta con la scritta due e mezzo tre e tre e mezzo differenzia la grandezza dell'artificiale la grandezza delle spugne quindi sta per misura dell'artificiale come il rapala da 7 il rapala da 9 è sempre lo stesso rapala però è un po' più grande o un po' più piccolo quindi questo era per dire la taglia eggi per quanto riguarda gli oppai ma gli oppai voglio dire dimmi una cosa amichi ma tu quel piombo nel gamberone lo tagli o lo lasci così com'è sbottonati un po' sbottonati allora se noi pensiamo l'edging questo artificiale è calato in acqua difficilmente sarà come lo shallow cioè che scende lentamente verso il fondo mette il capo davanti e scende dritto verso il fondo se lo portiamo con una lenza a stretto contatto con il fondo nell'ottanta per cento dei casi in qualsiasi curva si poggia a terra si sporca la spugna e non riesci più a pescare quindi tu devi fare in modo che l'artificiale nel punto dove c'è il piombo lo vai a segare e a modificare modificato quel piombo l'artificiale assumerà una posizione negativa cioè resterà sull'acqua poi ti invio le foto e quando facciamo la modifica ti faccio vedere come deve stare sull'acqua praticamente l'artificiale stando dritto sull'acqua che cosa succede quando verrà calato segue il piombo quando arriva sul fondo si ferma così verso l'acqua e prende un moto rettilineo uniforme seguendo uniformemente il tratto del piombo non si poggerà mai a terra questa è la cosa che ha cambiato la vita a tutti gli artificiali da edging del mondo nella maledetta e cosiddetta tombolella napoletana tutti ne parlano ma mi sembra voglio dire sai viene uno e ti dice una cosa viene uno e ti dice un altro pezzettino allora gli artificiali funzionano tutti ma vanno modificati che è la cosa più importante gli si dà quell'assetto negativo e ti cambia la vita io oggi mi permetto di pescare i calamari in qualsiasi orario del giorno non li devo cercare tanto perché bene o male le zone sono sempre le stesse però io ti posso garantire che in tre ore quattro ore di traina i 10 15 calamari se devo andare a pescare se devo fare un regalo se voglio mangiarli stasera non ho bisogno di andarci due settimane di seguito io ci vado un giorno gli dedico quattro ore come si deve l'eco scandaglio ha la sua importanza lì ha la sua importanza specie di giorno perché tu li vai a trovare dove li vai a trovare con gli oppai no a 30 35 40 di notte è diverso per cui tu sei nel sottocosta si te lo dice o non te lo dice ma sai dove sono i giri di corrente dove che si firma la mangianza dove ce ne sono di più dove ce ne sono di meno però ti dico che questa modifica e questa cosa qua su tutti gli artificiali da due e mezzo da tre e tre e mezzo fa la differenza perciò ti puoi permettere di trainare a zero otto zero uno una cosa molto importante ritorniamo sulla velocità e poi chiudiamo questo settore diurno io vedo qua che metti zero sei un nodo questo cosa vuol dire che puoi andare a semplicemente a scarroccio o devi comunque usare il motore noi usiamo il motore o il motorino elettrico di prua oppure un motore ausiliario piccolino quello che usiamo per il vivo con marcia innestata cammina zero sei zero otto io parlo sempre di una barchetta io ci pesco con un gossetto da cinque metri con un quattro cavalli un sei cavalli quindi innestata la marcia starò a zero sei zero sette zero cinque a secondo della corrente del vento che gira però quella è la velocità da zero sei a uno anche perché non è mai una una traiettoria dritta comunque fai sempre il cuci e scuci nei punti che conosci di modo che rallenti acceleri rallenti acceleri e il pesce voglio dire ti segue senza nessun problema facile fare voglio dire a volte quando ci hanno voglia veramente anche di giorno con queste lense qui e quella quel particolare che abbiamo spiegato prenderne anche tre a cala eh e lì quando il tratto è piccolo e fai il cerchio tu ogni volta che arrivi nel punto dove hai tracciato voglio dire il punto preciso ne rifai due ne rifai due ne rifai due molto 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 corto se hai una sola canna o una sola lenza a mano attenzione eh Michele stai stai alzando troppo le nostre aspettative quindi andiamoci un po' più calmi detto questo tu lo fai da una vita quindi è facile noi eh noi gli amici che sicuramente proveranno avremo bisogno di un pochettino più di eh di prove e sicuramente sarà leggermente più difficile però eh questa è la strada giusta da fare di giorno adesso se la regia ci manda eh il trave eh notturno iniziamo a parlare di quella che poi è la vera traina al calamaro perché sì quella quella è la vera traina al calamaro diciamo che la tombola napoletana nasce per una tecnica di scarroccio per una tecnica lenta di ricerca ma lenta la traina vera è tutt'altra cosa parliamo di velocità diverse di artificiali diversi quindi se 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 abbiamo la possibilità di pescare nel pomeriggio le fai tutte e due perché tu esci al mezzogiorno l'una le due ecco qui ecco questa è quella questa è la prima ma è quella di superficie questa è quella di superficie mettiamo mettiamo un attimino dei paletti eh la traina diurna ok a luce la traina notturna parliamo di orari per far capire bene cosa intendiamo per traina notturna allora per traina notturna intendiamo voglio dire dal periodo del c'è dal un arco di tempo che va dal calasole all'alba quindi puoi usare le tue tre ore gestendole quando esci da lavoro quando torni a casa e ti resta tutto sullo stomaco e preferisci andare tre ore in barca se sei uno mattiniero ti alzi alle cinque oggi fino alle sette pesca quindi a seconda della disponibilità che ognuno ha va gestita in questo modo ok ma in in questo in questo tratto di ore che è lungo ci sono secondo te dei momenti migliori oppure sì 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 i cambi di luce i cambi di luce un'ora dopo i cambi di luce un'ora dopo e un'ora prima per quanto riguarda l'alba e per quanto riguarda il tramonto quindi rimaniamo sempre su alba e tramonto e invece in piena notte piena notte un po cala la notte piena notte se tu sai noi perché peschiamo anche in piena notte perché quando ti servono i calamari per andare col vivo come servono a voi cosa succede che tu tutta la notte invece di fare lo spostamento a 22 nodi alle sei e un quarto con dieci seppie in barca comprate oppure pescate non lo so noi preferiamo andarcene lentamente a traina e quelle 15 miglia ce le facciamo a uno dei otto due nodi due nodi e mezzo impieghiamo le tre quattro ore e quindi se ne passa la notte pescando a traina ed arrivando quasi sul posto dove puoi andare a pescare con gli addendici a ricciole quindi quello è perché noi perciò peschiamo tante ore e poi escono dei numeri voglio dire a volte sono dei numeri importanti cioè ci sono anche notti voglio dire dove trovi i calamari e se li trovi in superficie ci sono dei periodi precisi cioè dalla fine d'agosto ai primi di ottobre li trovi in superficie sono piccoli se sono quei pesciolini da 18 20 22 24 non ci sono ancora quelli veri li trovi tutti sull'acqua ma in fondali importanti pure a 25 a 30 metri perché seguono il krill si mettono in corrente tu li trovi e vai avanti e indietro e ci giri dentro e prendi sempre pesci la mattina ti ritrovi con 70 80 pure 100 calamari in bar certo non capita tutti i giorni attenzione se no voglio dire avrei cambiato già lavoro però però questi numeri insomma non sono difficili né da immaginare né da fare poi più la fai e più entri voglio dire in quelle in quell'ottica e riesci a capire come cambiare cosa cambiare quando cambiare questa comunque una lenza che uso molto in superficie per superficie intendiamo è un piombo a oliva che non deve superare mai 70 grammi 30 50 70 grammi come vediamo qui un diametro il diametro del trave queste a mano è questa però è una lenza a mano attenzione diametro del trave del 60 quindi tre perline girella tripla per le trote 7 metri 700 centimetri di 0 35 0 40 al quale verrà collegato cosa serve cosa serve questo questo pezzo da 7 metri perché quando io l'ho visto subito mi è mi è caduto l'occhio questo pezzo da 7 metri serve perché quando tu ti rimbarca la lenza la canna per recuperare ed avere tutto in ordine sul mulinello se metti una lenza del 26 del 28 in barchette come quelle che uso io dove c'è sempre un po d'acqua e tutto il resto tu la lenza a mare la cali una sola volta la tiri e poi dopo ne devi prendere un'altra perché hai fatto un groviglio di quelli anomali avendo questa accortenza qua quindi avendo questo pezzo questi 6 7 metri più doppi diciamo che a coda di topo quindi riesci ad avere perché quei 200 centimetri quei due metri che fai di terminale 26 28 sono quelli che tu prendi la girella in mano il calamaro e lo porti in barca giri e rimetti a porti pulisci le spugnette ok ok perfetto quello è né più nemmeno quindi quindi questa pesca in superficie spesso e volentieri è catturante come quella a fondo si vengono dei periodi in cui per esempio in questo periodo qua quando fa proprio freddo 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 specie quando c'è tramontana aria da terra che si ghiaccia dietro le orecchie che il cappello pure che quando lo muovi pure che senti proprio che hai capito il pezzettino che esce la lamentela del del bobo e in quel momento lì calamari proprio amano stare sull'acqua specie più grande queste sono le insetti fanno divertire noi chi non ha per esempio portacanne non ha una barca importante non ha le canne noi facciamo dei divaricatori con delle semplici aste delle scope non so se avete mai cambiato a casa il paletto della scopa no quello di legno gli mettete una molla di caociu fatta per bene con una girella dopo aver calato le dieci bracciate dal piombo della diciamo che stanno a poppa della barca si mette voglio dire la girella nella molla gli mettiamo lo starlight e ci abbiamo i due divergenti uno a destra e uno a sinistra e vediamo voglio dire quando si allunga la molla prendiamo la lenza in mano e recupera che non puoi stare sempre con sta lenza in mano no cioè uno si stanca poi devi fare una cosa devi vivere un'altra che fai butti la lenza a terra se va a terra il piodo a terra è perso voglio dire 15 euro d'artificiale più il resto perché poi rifare la lenza è scocciante quindi noi usiamo molto queste molle sia nei diciamo voi avete le bocche di granchio ci avete insomma quel tipo di applic sulle barche per mettere la corda dopo avergli dato insomma dopo aver preso il fondo noi con queste cose qua con la molla le mettiamo negli scalmi dove si mettono i remi e facciamo se non abbiamo neanche le mazze di scopa insomma è possibile farlo anche con altro però è importante avere qualcosa per appoggiarti perché comunque fa freddo sta sempre con la lenza bagnata in mano e fa male fa molto male qui noto che la qui già la velocità prende tutta un'altra è diverso certo certo questo la velocità la velocità allora sull'acqua e tutti i pesci che sostano sull'acqua bene o male possono essere sardine possono essere aringhe sono pesci molto veloci sono pesci molto veloci e in questo caso noi usiamo princess rapala io zuri possiamo usare tutti gli artificiali che vogliamo quelli modificati tutti quelli da spinning si possono modificare a secondo della paletta avranno un nuoto quello che faceva vedere prima fabrizio è molto simile a questo e può camminare dagli 1.6 fino a 2.4 2.5 parliamo di calamari non superiamo i 2.5 2.6 2.7 perché poi sai che cosa succede che tu lo ferri il calamaro però siccome le arpette sono molto sottili come si vede voglio dire nella nella ripresa la il ciuffetto del calamaro si rompe si taglia e ti lascia voglio dire la lampadina noi chiamiamola diciamo l'albero di natale perché ti lascia le palline sulle sulle spugnette le devi pulire perché se le lasci e la ributti a mare puoi camminare tutta la notte gratis non prenderai nulla quindi la velocità è quella perché ci sono delle palette non sono più gli eggi e gli oppai sono degli artificiali che si usano a spinning e a secondo di come tu lo vuoi torniamo a queste palette un po' più grandi e quindi devono essere spinti decisamente di più sì poi ricordiamoci che quando quando facciamo questo lavoro a galla lo facciamo con un solo pesciolino perché più pulita pesca meglio non c'è casino in altre in altre in altre circostanze si possono fare anche lenze diverse ma diciamo che la basica questa qua è quella che funziona sempre la più pulita meno incasinata poi gestire un pesciolino e una lenza a mano senza avere la capacità e avere tanta dimestichezza è difficile un pesciolino te lo permette capito quando ne metti due fai il trenino fai se con tutte queste cose che oggi sono diventate ormai meglio pescare bene con un solo artificiale che pescare con cinque casino ogni cala ok questo questo tipo di pesca mi sembra tra virgolette la più la più semplice poi ha sicuramente le sue le sue particolarità quindi possiamo adesso andare alla terza e ultima slide sempre se la regia ci viene in aiuto e andiamo a vedere quella che forse è la più classica quella che tutti usano però forse anche la più difficile da da usare sì da gestire da gestire è molto difficile eccola qua il tandem il tandem il tandem allora in questo caso abbiamo un tandem dove abbiamo due artificiali finali e c'è evidenziato vedi c'è un un artificiale con una paletta sopra e c'è un artificiale con un altro tipo di paletta sotto quindi noi abbiamo differenziato le due palette perché perché questi artificiali anche se camminano alla stessa velocità avranno due affondamenti diversi quindi creeranno la la classica situazione della forchetta aperta quindi uno affonda per esempio 80 centimetri l'altro affonda due e mezzo c'è una differenza di di divaricazione che è una forchetta da un metro e mezzo due quindi è impossibile imbrogliare è la cosa più semplice questo montaggio differenzia anche la lunghezza dei due braccioli perché sul più sul più lungo quindi quello da due metri andremo a montare il rapala classico che è quello che ha la paletta più pronunciata e quindi affonda di più su quello più corto da un metro andremo a montare quello con la paletta più piccola che affonda di meno quindi si crea proprio una situazione bella perché c'è proprio una forchetta precisa ecco qua sì sì esatto in questo caso sarebbe il ravage la paletta piccola in alto è il rapala che ha la paletta più pronunciata in basso e quindi loro si allargano loro si allargano si allargano esatto esatto si allargano e non si come se si inseguissero a branchetto di pesce diverso quindi mangianza però non si incontreranno mai solo quando hai ferrato i due calamari li troverai uno dietro l'altro sull'acqua che il solito rumore non so se avete mai sentito questo rumore è fantastico sentito questo rumore poi io li monto li monto con facilità senza fare troppe cose difficili quelle girelline che vengono una a collo dell'altra quelle lì ad elle no quindi fare attenzione sempre che dimmi no la che si chiama girella t fondamentalmente sì ma se la girella t la prendono per quella a tre perché c'hai girella girella e quella precisa questa qua non è quella t è quella lì che noi siamo incastrate l'una sull'altra esatto esatto sul collo dell'altra ricordatevi sempre che è importante quando montate questo artificiale in questo modo che la girella poggi sul collo superiore non su quello anteriore se no non avrà lo stesso effetto di snodo cioè se la montiamo al contrario si imbrogliano non vanno bene se la monti così invece la tiene più distante perché un poco 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 più divaricata sopra sulla anche in questo caso come vedi abbiamo 26 e 26 e dietro 5 metri di 33 per il solito discorso che ti dicevo in questo caso qua la differenza con l'altra è che noi il piombo lo avevamo in linea avevamo un oliva in linea oppure un piombo a palla poi vi spiego perché si può montare anche il piombo a palla in questo caso ce l'abbiamo a modi guardiano perché perché quando andremo a toccare la prima volta a terra camminando a 7 1 8 2 2 2 2 2 3 2 4 tu tocchi col piombo a terra ti prendi un segnale ti alzi di due braccia e stai pescando perché ho fatto il terminale da un metro perché una volta abbiamo toccato a terra abbiamo il tempo che i pesciolini prima di mettersi in asse non vadano subito in affondamento se no vai a terra appena ti muovi e incanami tutti e due specie il ravola molto più semplice quindi tu questa prova arrivi col piombo a terra appena sei arrivato col piombo a terra ti alzi di due braccia e se il fondale omogeneo con più o meno un metro massimo due di dislivello perché le pietre non sono sempre voglio dire dritte ce n'è una che sale una che scende un po però il dislivello più o meno due con questa lenza qui non incanami mai ma devi però prendere il segnale alla prima cala che fai quella è la cosa più importante poi dimmi una cosa io noto che tu hai sempre il piombo guardiano perché non utilizzi invece la classica barchetta la classica lo classico steam l'acqua g a tu parli dello steam allora diciamo che prima di conoscere per bene questa pesca le barchette voglio dire sono arrivate un po dopo i piombi no quindi tu bene o male hai assimilato a 10 metri a 12 metri a 14 metri quanto devi mollare di quello quando devi mollare di questo e sei sempre sul pezzo con la barchetta devi studiare i fondamenti che non è cosa facile nel senso che l'assetto di una barchetta non è è come quello di un piombo ma col piombo sei più veloce a provare perché la barchetta numero uno richiede una canna pesantissima come tutte le canne di traina come con gli affondatori cioè fanno una trazione di 3 7 3 8 quindi immagina la canna che devi usare quindi diventa un bastone poi ci vuole il multifibre più sali di multifibre dal 70 per cento che cominciava a scendere diventava un 50 un 40 quindi superati i 30 metri con quelle barchette lì io che ho fatto diversi campioni italiani tra in agostiera per questo so gli affondamenti non per altro tu più lo allontanavi cioè supera fino a 30 metri dalla barca scendeva quindi il 40 per cento tu pescavi a 12 metri un metro voglio dire glielo dava il pesciolino ma non ne potevi mettere più di uno perché con la carpetta se ne metti due a tre nodi non riesci a tenerlo sale sempre sopra non è come l'affondatore e quindi ecco perché io non pesco con la bar la barchetta è veloce ma per chi la sa usare la conosce bene ha già le sue misure del multifibre ha già le sue canne però io mi diverto di più con le cannesse esatto un artificiale quindi devi mettere due barchette una divaricata a destra una divaricata a sinistra quando fai una una curva devi fare attenzione perché una delle due prende un verso di corrente o la cavitazione del motore e sale uguale quante volte è salita e non c'era niente dietro un miliardo di volte io col piombo questo problema qui non ce l'ho mai avuto per fortuna questa qui di attrezzatura si utilizza con una canna giusto sì cosa cosa indichi perché io ho uno due idee però volevo sapere anche da te io non supererei mai due 40 due 70 come due 20 due 40 due 70 due 10 come misura parlo è quindi una canna quindi una canna da spinning un po pesante una canna da spinning un po pesante sì quelle canne lì vanno bene insomma per chi chi ha già qualche canna da bolentino e vuole e vuole voglio dire iniziare lo può fare uguale non è che se non è una canna da spinning o 40 80 o 60 120 non può pescare si prende una canna da bolentino si hanno una canna da bolentino sui due 10 due 40 si trova voglio dire quella che ha una pastosità in punta che ti permette di pescare sia a galla col 100 grammi che con un 250 200 grammi a fondo problema non sussiste un mulinellino un 4.000 perché comunque deve recuperare il piombo che c'è dietro più il calamaro eh non pigliare mulinelli troppo piccoli non non rende non ci perdi troppo temi quindi una cannetta voglio dire che abbia un range che può portare un piombo a traina due nodi due nodi e mezzo di massimo 300 grammi perché poi con il 14 in bobbina di multifibre con un 8 capi tu con 300 grammi a 15 18 metri attenzione quella è la differenza tu con la barchetta 18 a 20 metri ci puoi andare solo con gli affondatori quelli lì di acciaio ma immagina quanto ne devi mollare che mulinello devi avere per recuperarli ci vuole un 20 doppia velocità un 30 cioè diventa un lavoro secondo me non è più divertente invece con la cannetta voglio dire da spinning o quella da bolentino tu quando recuperi un calamaro è come se pescarsi a oppai non lo senti voglio dire quando lo recuperi ti diverti con un palo voglio dire di della luce con un 30 dietro sembra di statoni secondo me l'effetto io ho sempre utilizzato delle canne magari da traina molto 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 leggere con con un classico mulinello da traina tu sai che io utilizzo mulinelli molto piccoli però per esempio una canna che abbiamo usato ultimamente la vitality light la 2 la la 2 8 che tiene tranquillamente piombo però è molto sensibile ho anche l'altra l'altra canna della crossover quella bianca che la canettina 1 4 che ma a breve arriveranno una canna veramente pastosa morbida e ci aiuta a non perdere certo ma ti diverti poi il mulinellino il rotante è sempre meglio voglio dire del fisso sicuramente perché hai più dimestita e più velocità e più più armonico poi ti ripeto io con la vita sia con la con la vitality light che con la crossover ci pesco tanto a traina quando vado a fare quel lavoro profondo 18 20 25 e devo pescare 2 300 400 sono canne che gestiscono perfettamente sia gli artificiali che il piombo i calamari problemi non me ne hanno mai dati però è importante voglio dire rispettare queste misure i colori secondo me abbiamo un attimino tra lasciato i colori perché i colori poi ognuno c'ha le proprie io non 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 dico mai mettete questo mettete quello perché sei meglio di me che ognuno ha le sue convinzioni le sue tabelle di colori e quindi io mi permetto però di dirvi che è importante conoscere il fondale la sua morfologia l'habitat ma alla perfezione quello che c'è come pesce foraggio sparli boge menone alacce alici cefali cioè sono tutti pesci che hanno delle colorazioni particolari che sono riproducibili in tutti i colori voglio dire naturali quindi giallo rosa arancio viola blu nero sono tutti colori che funzionano poi è normale che una sera mangiano sull'arancio tutti quanti una sera mangiano sul viola una sera mangiano sul nero lo succede anche voglio dire con gli oppai quindi creiamo un sistema una sorta di rotazione a secondo anche se c'è o non c'è la luna perché anche quella influisce nella pesca del calamari con la luna io preferisco sempre pescare di più a galla e non a fondo senza luna preferisco pescarli a fondo perfetto quindi quindi come nella pesca tataki chi ha molti colori alla lunga può essere vincente sì sempre sempre allora guarda io ti dico una cosa è vero che noi pescatori siamo innamorati di tutto quello che esce diciamo sul mercato e quindi questo lo vogliamo provare quello lo vogliamo fare quello lo vogliamo dire però io ti dico il mio pacchetto di artificiali per i calamari tra eggi modificati e non e artificiali per questo tipo di trena quindi con le palette da spinning si aggira sui 400 artificiali no non se voi facciamo un video ti faccio rendere conto perché veramente cioè a volte dico ma che cioè ma proprio sei proprio un deficiente perché perché qua succede tu lo prendi con una forma con quella paletta e le aziende per quanto riguarda lo spinning fanno 100 colori non uno fanno 20 colori ogni anno ne escono 5 ogni anno ne escono 3 e tu lo prendi lo prendi lo prendi poi alla fine però sei meglio di me che c'è il maradona della situazione che c'è voglio dire quello lì è il re non c'è niente da fare non posso non aver messo questo in acqua no alla fine si restringe sui 7 8 10 colori però 7 8 10 colori con tre palette diverse parliamo di due misure per artificiale parliamo di 60 artificiali c'è proprio basic perché poi tu vai a mare usi questo se poi sei a napoli non so a cagliari ma a napoli 9 volte su 10 prendi una rete perché non è mai segnalata perché non si possono segnalare a napoli le rete non si segnalano come la freccia non si mette come il rosso non serve per fermarsi al semaforo ma serve per avere il clacson dietro ti dice deficiente poi confermo lui è venuto con me lì l'ha visto lui l'ha vissuto e quindi vuol dire tutte queste cose tu perdi questo pesciolino o perdi quello che c'ha fabrizio ce n'è uno in cassetta non peschi più dici ma non è possibile almeno due se no tre esatto io ce n'ho quattro per misure per colore poi te li faccio vedere le malattie a pacchetti poi c'ho quelli per esempio per pescare in un posto perché so che quelli sono i colori che vanno poi man mano che ci vai no ragazzi è come la pesca è così più si frequenta il mare più lo si vive più lo si capisce e più poi formuli le cose per evitare di portarti camion appresso io sono andato in sardegna la prima volta a casa di questo signore ho avuto la fortuna di stare con lui quando lavoravamo in tubertini insieme e io sono stato a casa di questo signore e una notte l'ho convinto ad andare a calamari e non ero mai stato lì a calamari tant'è vero che lui non sapeva neanche dove dovevamo andare ma io dove ti porto posso immaginare che quello che tu mi dici questo tipo di fondo lo possiamo trovare lì a oplonto e andiamo a oplonto ci siamo messi in barca siamo andati a oplonto con quattro artificiali miei modificati e quattro suoi che aveva da spinning che io ho modificato sul posto abbiamo fatto dieci calamari alle sei di mattina eravamo già in pesca a denti c'ho sbaglio ma chi è questo signore questo signore ce l'hai presente quello che fa matti per la pesca il vannamarchi il vannamarchi cagliaritano quindi pari di me a grazie per il signore il signore lo si dice a tutti per l'educazione poi ognuno voglia di attribuirci da solo quello che ti fermo perché è meglio non sapere quanti pesci abbiamo preso quel giorno lasciamo io non c'è e se c'è non ho visto non c'è niente mi avvalgo del diritto di non rispondere va bene uno se non ti ricordi preso anche a mano tirato su a mano tolto dalla e dall'elica e mi ricordo bene mi ricordo no no me lo ricordo bene figurati allora però ci siamo ci siamo divertiti dai ci siamo divertiti adesso non abusiamo della tua gentilezza noi adesso abbiamo visto tutti i tuoi segreti una parte dei tuoi segreti quello che noi adesso interessa è io domani mi metterò in negozio mi preparerò pari pari tutti questi travi e andremo insieme ai nostri amici a fare una serata a calamari e vi faremo vedere se l'amico michele sta dicendo la verità ci sta dando degli indizi dei segreti interessanti o come al solito ci ha venduto del fumo io conosco già la risposta perché ci conosciamo però ovviamente la prova del 9 la faremo amare quindi michele grazie come al solito sei stato super gentile super simpatico come sempre ti aspettiamo a brevissimo in sardegna per per organizzare le nostre cose qualche altro video qualche altra uscita assieme e cosa dire salutiamo tutti i nostri amici andiamo a provare queste tecniche napoletane ricordati portarti voglio dire di portarti la cassetta tua preferita con tutti i brani napoletani cassetta e traduttore di portare di portare l'avvocato lui traduce benissimo va bene salutiamo michele e ci vediamo alla prossima puntata di matti per qualcosa buona serata della serie la fine ciao ciao